Marinella Sclocco scende in campo, candidato sindaco per il centro-sinistra, decisione arrivata nelle ultime ore dopo un lungo dibattito. Come mai ha accettato la richiesta soprattutto del Partito Democratico? La richiesta è venuta da un tavolo di coalizione, non solo dal Partito Democratico, dopo aver discusso all'interno del tavolo sul profilo della candidatura. Mi è stata fatta questa richiesta proprio ieri, ho accettato con entusiasmo perché Pescara è una città che amo, è la mia città, la città della mia famiglia, è la città dove spero di poter vivere fino alla fine dei miei giorni, quindi ho sempre sentito questa forte esigenza di servizio nei confronti della comunità e quindi sarebbe bellissimo poter fare tutto quello che ho fatto, anche per esempio in regione, nella mia città. Credo che sia il riconoscimento quindi non solo del fatto che sono una giovane donna ma soprattutto del lavoro che ho fatto in questi anni a partire dal mio quartiere, che è la Madonna del Fuoco, quartiere di cui vado orgogliosa e con il quale abbiamo fatto moltissimi progetti negli anni quando ero al Consiglio di Quartiere e poi in provincia. Chiedo anzi a tutti coloro che vogliono impegnarsi per costruire una città diversa, una città innovativa, una città che guardi il futuro, di farsi avanti. Questo è il momento veramente di tutti i pescaresi. Lei ha parlato di un tavolo di coalizione, potrebbe essere ripetuto con lei quello che è stato fatto alle recenti regionali con Legnini? Beh certo, penso anche meglio, spero anche meglio, però ecco lo spirito è quello lì.